La tredicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta da Yancor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Continuiamo sempre nella categoria IT e tecnologia, il premio è eccellenza dell'anno, innovazione, leadership, soluzioni, ICT e data security e il vincitore è 0DD. Eccolo là che arriva per essere un partner tecnologico di eccellenza e per rappresentare un ruolo chiave nell'attività di digitalizzazione dei processi aziendali, come è dimostrato in particolare nello sviluppo di progetti di transizione digitale delle TA, soprattutto durante la pandemia e per progettare e innovare soluzioni digitali in maniera fruibile e allo stesso tempo performante, complimenti a 0DD. Buona serata.